Allora, prima di tutto complimenti per quella bellissima fotografia di quella ragazza con quel culo che hai da fuori, è tagerato, bellissima, quella biondona che sta dietro alle tue spalle, non so chi è perché non riesco a vedere. Allora, per cancellare le scritte, cioè tu praticamente basta che prendi questo video, lo metti per esempio, non so che computer hai, Mac, non so, se hai un programma dove tu fai normalmente i video, ok, no la webcam, cioè i programmi che normalmente tu fai un video, non so, io per esempio immovio, fai una cat, a federe, effect, eccetera, eccetera, quindi trascina il mio video nel tuo programma. E togli la parte con le scritte, e ti rimane solo l'effetto, o verde o nero, a seconda di come vuoi fare tu, non lo so. In tutti e due casi va bene ugualmente. Così, che non ci sta niente da fare, oppure adesso ti faccio, mi prendo io 3, 4 video, aspetta, allora, facciamo così, io ti mando, vabbè, questo video risposta, aspetta un paio d'orette, ti mando un video con solo effetti, eh, con fondo nero, con solo effetti con fondo nero, un po' misti, senza scritte, senza niente, senza, senza, vabbè, te lo faccio io direttamente, ah, ok, a più tardi, ciao. Grazie.